Droghe e telefoni cellulari in possesso di detenuti è quanto hanno scoperto gli agenti della polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce nell'escorsiore durante le attività di controllo ulteriormente intensificate anche in seguito all'evasione di Vito Gassi dal reparto di osservazione psichiatrica del carcere nel pomeriggio di sabato 14 settembre. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti all'interno delle celle un cellulare, un microtelefono, tre iphone, due cavalletti, uno spinotto e due auricolari. Oltre al materiale utile per la comunicazione con l'esterno gli agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto sei grammi di hashish occultati all'interno di un involucro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sei persone dopo la segnalazione all'autorità giudiziaria risultano indagate per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I fini di spaccio proseguono intanto le ricerche del 29enne originario di Trigiano, evaso dal penitenziario alcuni giorni fa. L'uomo potrebbe trovarsi in compagnia della moglie Erika, una 24 residente nella provincia di Taranto, sposata in carcere appena quattro giorni prima della fuga. Anche lei da quel sabato infatti risulta scomparsa nel nulla.